Siria, ex concorrente del Grande Fratello, con un vestitino e un sandalo veramente gioiello meraviglioso Hai visto che carino! Coordinato con la borsetta, fantastica Poi ho recentemente sentito una tua dichiarazione nella quale parlavi di Veronica Ciardi Sì? Allora, senza intermediari e giornali, cosa hai detto tu della bella Veronica? Ho detto che è molto bella, ma l'hanno detto tutti, insomma, è una verità E poi avevo detto come battuta, però io scherzavo, avevo detto che se in caso Sara l'abbandona, a lei ci penso io Beh, direi che forse succede, non lo so, però nel caso? Nel caso, perché io sono buona, Veronica in caso se hai bisogno di essere un po' tirata su di morale Non lo so, ci sono io No, scherzo che le fan di Veronica e Sara si sono arrabbiate Ma no, usa pure il microfono per spiegare questa cosa No, dai, ovviamente era una battuta Sono due belle ragazze, sono tutte e due molto dolci e simpatiche, le ho conosciute Quindi va bene, però non posso nascondere che ho un piccolo debole per Veronica Grazie mille! Grazie mille!